Questo è il riscaldamento prima dello spettacolo. Qualcosa per la stampa? Mi dicono che si fa questo esercizio prima che si entra in scena. Io non ci credo tanto. Terry, perché si fanno questi esercizi prima di entrare in scena? Il corpo si abitua e i movimenti squenici. Ah, ho capito. Il corpo si abitua e i movimenti squenici. E sono i movimenti squenici.